Ciao BimBim, benvenuto a un nuovo esperimento creativo. Oggi faremo due esperimenti creativi con le candele. Per il primo esperimento ci serviranno un accendino, un vasetto, una candela e un piatto. Incominciamo a prendere il piatto e a posizionare la candela nel mezzo. Dopodiché fate fare questo passaggio a un adulto perché dovremo accendere la candela. Perfetto, in questo modo. Adesso apriamo il nostro vasetto. Per il secondo esperimento ci serviranno un accendino, un vasetto, una candela, del colorante, un piatto e l'acqua. Iniziamo a prendere il piattino, ci versiamo un piccolo strato d'acqua e scegliamo un colore. In questo modo. Adesso posizioniamo la candela al centro, l'accendiamo, fatevi sempre aiutare da un adulto. In questo modo. Adesso apriamo il nostro vasetto e lo metteremo sopra. Vediamo cosa succede. Esperimento riuscito. Ciao! Grazie a tutti.